L'oro di Puglia in tutta la sua bellezza con un tocco di creatività che ne esalta il suo valore e la storia della terra in cui prende vita. Sono le emozioni che emergono dalle fotografie vincitrici della settima edizione dell'iniziativa Scatti d'olio inserita nella rassegna Sogni nelle notti di mezz'estate ideato dalla strada dell'olio extravergine d'oliva. Sono cinque le istantanee scelte premiate dalla giuria del contest fotografico. Al primo posto c'è Carmine Lapia con olive splash per la categoria cucina, immagine che si aggiudica al concorso. Al secondo posto è ex equo tra Francesco Quercia e Potito Priore nella categoria ruralità, istantanee che raccontano il lavoro nei campi durante il periodo della raccolta delle olive, uomini che hanno tra le mani gli strumenti simbolo di un'attività secolare e che si tramanda di generazione in generazione. Al terzo posto ecco Carmela Cilli per la categoria paesaggio, due pagine di un libro che formano un cuore attorno ad un albero d'olivo. Infine al quarto posto si classifica Lucia Brescia per la categoria architettura con una foto che ritrae la macina in pietra, altro simbolo secolare della tradizione olearia. Questi gli scatti vincitori del contest fotografico già disponibili sulla pagina Facebook di strada dell'olio extravergine d'oliva, tutte le altre istantanee che hanno partecipato all'iniziativa saranno pubblicate sui social nel prossimi giorni. La settima edizione di scatti d'olio ancora una volta è riuscita a raggiungere il proprio scopo, ovvero far emergere tutta la bellezza ma anche le storie che si celano dietro la lavorazione dell'oro di Puglia.